E' sempre il Bari a tenere alta l'attenzione nel mercato di Serie B. Sean Soiano sembra non dormire la notte e nella giornata di ieri ha perfezionato un'operazione di scambio. Come già emerso nei giorni scorsi, Marino Defendi lascerà il sodalizio pugliese. A spuntarla tra Intella e Ternanna è stata la formazione di Benny Carbone. Quello che più interessa alla dirigenza barese è però la contropartita, che consiste in Federico Furlan. L'esterno rosso-verde era ricercato da mezza Serie B, ma sia l'interessamento della Ternanna per Defendi che la parte in danaro messa sul piatto dalla società pugliese hanno convinto gli Umbri a cederlo ai Biancorossi. Non è solo questa però la trattativa tenuta in piedi dal Bari. Nelle ultime ore, oltre a quelle per Ivan e Cassano, già emerse nei giorni scorsi, i pugliesi si sono inseriti anche nella trattativa tra Vicenza e Carpi per Filip Raicevic. L'attaccante Montenegrino l'anno scorso ha messo a segno ben 11 gol in cadetteria e è entrato nel mirino del DS Soiano perché dalla Puglia potrebbe partire Riccardo Maniero. L'ex attaccante del Catania piace a Benevento e Salernitana. Chi si è mosso con più convinzione è però la squadra di Lotito, che potrebbe cedere a Alfredo Donnarumma, cercato da molti club di Serie A con il Parermo in Paul, ed acquistare il centravanti Scuola Juve. A Benevento invece potrebbe arrivare un altro ex obiettivo dell'Avellino. I giallorossi potrebbero assicurarsi le prestazioni di Riccardo Bagadur, entrato nelle scorse settimane nella trattativa per Biraschi alla Fiorentina, ora però vicinissimo a raggiungere l'accordo con la formazione di Marco Baroni. Vicino al ritorno in Serie B anche l'ex attaccante della Latina, Nicolao Dumitru. Su di lui nelle ultime ore è diventato incessante il pressing dello Spezia, che potrebbe rilevarlo addirittura a titolo definitivo dal Napoli. Giorno dopo giorno il mercato si avvicina alla chiusura, le società iniziano a spingere sull'acceleratore.